Siamo venerdì, passiamo una settimana esatta dal venerdì santo, dal venerdì della passione. Ed è importante questa coincidenza, perché questa apparizione del Signore ci conduce esattamente al venerdì che si ripete nella nostra vita, che si compie, che si realizza nella nostra vita, perché la Pasqua non è mai disgiunta, scollegata dalla croce. La Pasqua include la croce, la porta della Pasqua è la croce, quella che stai vivendo oggi probabilmente, nonostante ci troviamo nella settimana in Albis, nell'unico grande giorno di Pasqua, la croce della missione, che non è riservata ai preti, alle suore, ai catechisti, ai missionari, alle famiglie che partono in missione, no, no. La vita cristiana è una missione, la grandezza, la bellezza, la densità, la pienezza della vita è la missione, fratelli carissimi. La Pasqua ci getta, proprio ci spinge, caritas Christi urgetnos, la carità di Cristo, che è il frutto della Pasqua, che è la vita nuova, ci spinge nella missione. Ed è quello che hanno fatto i discepoli, questi apostoli, sette, la comunità cristiana, un numero importante, la pienezza della comunità cristiana. Bene, questi apostoli che hanno visto Cristo risuscitato, questa è la terza volta, no, da Giovanni, e poi se vediamo quello che ha fatto il Signore, è apparso, ha mostrato loro le ferite, ha mangiato con loro, li ha inviati, facendo scendere lo Spirito Santo nel Vangelo di Giovanni, la Pentecoste coincide con il giorno di Pasqua, arriva su di loro, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, nella forza dello Spirito Santo. E che cosa fa Pietro? Va in Galilea, dove il Signore ha promesso che sarebbe apparso loro, per missione, sarete pescatori di uomini, e vanno a fare i pescatori. È un'immagine molto forte, perché dice non a caso Pietro, io vado a pescare. È in obbedienza alla parola del Signore che Pietro va in Galilea. Ma va guidato e spinto dallo Spirito Santo, ma gli manca un passaggio, che è quello che vuole il Signore oggi illuminare per tutti noi, il passaggio fondamentale di Pietro. Io vado a pescare. C'è ancora quell'io che è troppo forte. C'è ancora quell'io che prende le sue alchimie, i suoi criteri, il pescatore secondo la carne, o meglio, secondo le reti, secondo la barca, e va a pescare, cioè cerca di pescare gli uomini con i mezzi vecchi. Ma lui è una creatura nuova, lui ha lo Spirito Santo, lui ha visto Cristo risorto. Allora, ecco, è dove inciampiamo spesso tutti noi, perché non si mette vino nuovo, i nostri vecchi. La Pasqua è una rinnovazione totale del nostro modo di pensare, abbiamo visto ieri. È una metanoia, è la conversione, il perdono dei peccati ha tolto forza all'io. Ma, come dice il cadellismo, anche con il battesimo noi siamo comunque feriti. E dobbiamo assumere un combattimento tutti i giorni, combattimento molto, molto serio, con questo io, con i graffi, con le zampate del demonio che continua a girarci intorno, cercando chi divorare, come divorarci. Bisogna fare un salto in una novità totale. Per questo Cristo appare ancora. Non lo riconoscono, perché è una novità che non conoscono. Cioè, non sanno come pescare gli uomini. Hanno ricevuto tutto, ma non sanno come mettere a posto le cose. Hanno bisogno che il Signore sia con loro. Per questo il Signore accompagna la nostra vita, la tua vita di marito, la tua vita di moglie, la missione di moglie, la missione di marito, la missione di fidanzato, la missione di prete, la missione di catechista, qualunque missione il Signore ci abbia dato, che è la missione dell'amore, che appare qui. Per questo non possono esserci strumenti vecchi, non possono esserci categorie antiche. Non può esserci la sapienza secondo la carne. Occorre ascoltare il Signore. Occorre ascoltare e obbedire. Quello che non potevamo fare prima, perché ci siamo addormentati nel Gersemani, lo possiamo fare ora, in virtù dello Spirito Santo. Obbedire. Questa scena è un parallelo della scena della chiamata di Pietro, del Vangelo di Luca. Se si torna alle origini, ma già è tutto compiuto. Già Cristo è passato oltre la morte, Pietro deve riconoscere il proprio peccato, deve riconoscere la propria nullità, la deve sperimentare, come tu ed io, nella missione che ci è affidata. Nelle nostre relazioni dobbiamo sperimentare il fallimento, la notte del fallimento, dei nostri criteri applicati alla Pasqua. Non possiamo costringere lo Spirito Santo nei nostri pensieri, nei nostri schemi. Per amare tuo figlio, devi buttarti in mare aperto. Per amare tuo marito, per amare le persone che si sono affidate come pastore, devi buttarti in mare aperto, devi obbedire alla parola del Signore, che ti dice di fare l'assurdo, di rifare ancora una, due, tre, quattro, cinque, dieci volte l'assurdo. Buttare la rete da dove tu hai fallito. Hai fallito fino ad oggi? Ributtala, ma sulla parola del Signore. Buttala dalla parte destra, dove il fianco squarciato di Cristo. Buttala in forza del suo Spirito Santo, della sua acqua rigenerante, la misericordia, la pazienza, la tenerezza. Buttati, buttati nel Signore. Buttati completamente, lasciati portare da Lui. Buttati a tutti i tuoi schemi. Buttati a tutto quello che tu pensi di tuo figlio, di tuo marito, di te stesso. Buttati a tutto, non serve a nulla. Il Signore è venuto a rendere nulla quello che è. Attraverso di te che sei nulla. Questo dice San Paolo. Devi scoprire che sei nulla. Peschi e niente. Anche con la Pasqua sei andato, hai ascoltato una parola, ti sei messo sulle stracce della missione, con entusiasmo, forse sperando di poter diventare veramente un pescatore di uomini, ma niente, con tuo marito rimani sempre lo stesso. Con quella persona lo stesso. Allora ascolta quello che ti dice il Signore. Butta la rete dalla parte destra. La parte dello Spirito Santo, che è alla destra, che è il Consolatore, che è l'Avvocato, che sempre si sedeva alla destra nei tribunali. Lasciati portare dallo Spirito Santo. Lascia che la tua vita si modelli alla vita degli altri. Lascia che il Signore ti spinga fino ai bordi della vita dell'altro. Butta di mare. Ed è quello che fa Pietro. Scopre che lasciando il io vado a pescare, lasciando che sia lo Spirito Santo a guidare la sua pesca, lasciando che lo Spirito Santo rinnovi ogni giorno il rapporto con tuo marito, con tua moglie. Ogni giorno rinnovi, perché ogni giorno l'altro è diverso. L'altro ha altri bisogni, altre sofferenze, altre difficoltà. Come lo Spirito Santo comporta con te, come Cristo si comporta con te, sempre al tuo fianco. Sempre. Coprirai che il Signore già ha operato. Vedete? Li aspetta. Però prima li spinge nel mare, chiedendo se hanno qualcosa da mangiare. Chiede il Signore, oggi a te e a me, se abbiamo del compagnatico, non il cibo sostanziale, se abbiamo qualcosa per accompagnare il cibo. Ma che strano. Il Signore ci chiede questo. Ma certo, è Lui il pane sostanziale che chiediamo nel Padre nostro. È Lui la missione. È Lui la vita. È Lui l'amore di cui hanno bisogno dei fratelli, di cui hanno bisogno delle persone. Non sei tu. Non sono i tuoi modi di fare. Non è il tuo modo di pensare. No, è Cristo. Per questo noi abbiamo il pensiero di Cristo. Per questo la metanoia, la conversione, è lasciare che Cristo vive in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Per questo bisogna camminare molto nella Chiesa. Per questo bisogna lasciarsi rivestire di Cristo, come fa Pietro, che era nudo, nudo, e si riveste. Per entrare nell'acqua, e camminare in acqua, buttare il suo io nell'acqua, e dare nell'acqua il battesimo. Perché riconosce Cristo? L'amore, il discepolo amato, l'amore, la parte che incendia l'amore, la parte incendiata dentro di noi, l'amore lo riconosce. L'amore, essere amati così come siamo, anche nei nostri salimenti, anche nei nostri sbagli con la persona amata, anche gli errori, le nevrosi, non importa nulla. Va bene tutto. Di essere qualcosa di diverso. Fa tutto il Signore. Per questo torni a terra, e trovi che il cibo l'ha preparato Lui, il pesce arrostito, il cibo che viene dal mare, Cristo stesso, il cibo che viene dalla morte, che si dà a mangiare a noi. Allora tu sei un companatico, tu sei qualcuno che accompagna Cristo nella missione. La fa tutta Lui, la fa Lui, capito? Lui ti spingerà, Lui ti illuminerà, Lui ti porterà, Lui ti farà dire le parole che devi dire. E se inciamperai, non importa, perché Lui sarà sempre al tuo fianco, a dire, e buttano le arete a destra. Non ti preoccupare, questi 153 pesci che portano a terra, secondo la chematria, e la numerologia, molto importante, perché in Aramaico significa la comunità, il segno della comunità, proprio il numero, la comunità perfetta, l'amore, la Chiesa. E' lì che noi possiamo compiere la nostra missione, portati dal corpo di Cristo, sostenuti dai fratelli, mai da soli, mai secondo i nostri schemi. Con Cristo possiamo amare, con Cristo possiamo pescare veramente gli uomini. Con Cristo, è Lui che opera, è Lui che prepara tutto, è Lui che ci accompagna, è Lui che ci ama, è Lui che ci spinge ogni giorno, nell'acqua, che è la vita dell'altro, per pescare l'altro da dove l'altro è. Non ci sono schemi, le mappe, c'è soltanto il soffio dello Spirito Santo, di buttare la nostra vita alla destra, al nostro avvocato, che ci difende dal demonio, dalle accuse di incoerenza, di durezza di cuore, e ci spinge verso l'altro. Anche i nostri tremori, anche le nostre incapacità, sono idonei, sono atti, sono funzionali alla missione che Dio ha preparato per noi. Così come sei va bene, l'importante è che sia Cristo che opera in te, e vedrai che anche le tue ferite, anche le tue difficoltà, anche le tue incapacità, il tuo nulla, serve a Cristo per salvare chi ti è accanto, per fare di noi una comunità. Ogni giorno buttare le reti, pescare gli uomini che stanno affogando nella morte, nella menzogna. Lasciamoci pescare da Cristo, buttiamoci nella sua rete, buttiamoci nella rete del suo amore, buttiamoci nelle sue ferite, perché Lui possa buttarci nella morte che attanaglia gli altri, nelle sofferenze degli altri, nelle difficoltà degli altri.